se voi doveste doveste dirmi che cosa vuol dire per voi la parola imprenditore creare valore creare un valore per le persone era un valore per il nostro mondo creare un valore economico creare un valore però è sempre un creare valore che prima non c'era cioè secondo me questo è un po è il fattore che porta l'imprenditore a che guida che deve guidare l'imprenditore crea un valore sulla vita delle persone che collaborano crea un valore per il brand crea un valore però in tutte le cose sicuramente è quello che c'è e creare è sempre quello siamo andati a cercare qualcosa di già fatto per per copiarlo e cercare di tirarci fuori dei soldi ecco noi abbiamo creato un qualcosa abbiamo cercato un'apertura questo è normale però da quell'apertura abbiamo cercato di diciamo metterci del nostro ecco creare qualcosa che prima non c'era questo è ancora questo è ancora un modo di creare valore cioè alla fine noi c'è tanti imprenditori cioè per chi l'ha fatto secondo me c'è un codice poi non scritto di persone che hanno creato un qualcosa cioè lo vedi dopo ce lo rivedi nei ragazzi che ci provano vedi che poi c'è questa passione questa pulsione questa visione ricerca agli occhi delle persone che hanno voglia di farlo che l'hanno fatto avete un un mentore o un'idea di imprenditore che in qualche modo vi ispira o qualche frase qualcuno che ha detto qualcosa che per voi è motivo di ispirazione non c'è una figura ben precisa da che ci ha indirizzato nella nostra strada però molti esempi di molte persone che comunque ce l'hanno fatta che comunque magari potevano essere anche persone che non avevano niente di speciale no potevano non avevano niente di speciale ma invece mettendosi mettendosi lì cercando di portare avanti il proprio progetto con la costanza come dicevo sempre e con e con l'impegno ci sono riusciti ecco queste persone qua per me sono degli esempi e in questo percorso di crescita c'è stato un momento veramente difficile da capire superato io dividerei l'azienda in due momenti c'è in due spaccati il primo momento in cui è sempre impegnativo la difficoltà la vedi dal pericolo c'è nel momento in cui devi far qualcosa perché l'azienda è in pericolo a quel punto c'è non c'è solo la pressione di fare ma c'è la pressione di fare per non morire non far cose veramente sbagliate potrebbero compromettere il progetto dopo l'impegno quando l'azienda invece è strutturata e inizia andare a quel punto l'impegno è sempre lo stesso momenti di giornate più difficili ci sono sempre però l'impegno va comunque non è più non ha più la pesantezza vicina del pericolo ma c'è la pressione del della crescita e dello sviluppo ecco quindi secondo me quello è realmente la differenza da lì fino a quando hai vissuto costantemente per pensare a costruire ma anche per non morire fino a quando dopo la maggior parte dell'attenzione era per crescere da parte mia se posso aggiungere secondo me i pericoli più grandi non vengono dall'esterno ecco i pericoli più grandi che magari anche noi abbiamo potuto subire e passare sono quelli che poi vengono dall'interno da incomprensioni da pressione che ti porta magari a fare scelte sbagliate non essere d'accordo su un tipo di percorso ecco quelle sono i momenti magari forse più difficili che noi abbiamo potuto diciamo abbiamo avuto nel no nei nostri 12 anni di impresa quindi insomma è chiaro che non è mai sempre rose e fiori cioè sei lì e cerchi di crescere la nostra fortuna è chiaramente la nostra fratellanza ok è il nostro obiettivo perché l'obiettivo è sempre e sarà sempre comune e questo e questo ci ha sempre dato la forza di poi passare quei momenti difficili che poi appunto ci hanno ci hanno sempre ci hanno portato ad oggi ecco